Sì, grazie Presidente. Si tratta di un ordine del giorno, quello presentato dai colleghi di Fratelli d'Italia sicuramente importante e che merita di essere sostenuto e votato favorevolmente. Stiamo parlando del rafforzamento del trasporto pubblico su ferro in quel quadrante, in particolare la stazione di Lunghezza e la stazione di Ponte di Nona FS. Stiamo tentando di riallacciare i rapporti in questi giorni con Trenitalia perché sappiamo tutti che i treni sono quelli della FL2, quindi di una ferrovia regionale. Quindi chiaramente è una competenza, un contratto di servizio in capo all'area di Lazio con Trenitalia e però sicuramente è giusto andare nella direzione dell'ora auspicato, ovvero un rafforzamento del trasporto pubblico su ferro. Quindi ci sentiamo di sostenere questo ordine del giorno e mi auguro che seguano anche i dovuti adempimenti da parte della Giunta nella direzione da noi indicata, anzi suggeriremo ai colleghi di aggiungere alla stazione di Lunghezza anche quella di Ponte di Nona nel dispositivo.